Wow fa davvero caldo! Ho un'idea! Prendiamo della frutta e facciamo della spremuta! Oh wow della frutta! Ecco i soldi che abbiamo fatto! Possiamo comprare un laser per distruggere la terra! Aspetta, ma tu non sei doppia D! Doppia D è in vacanza adesso, io sono il suo sostituto Marvin il marziano. Oh! Beh ok! Comunque noi qui spendiamo i soldi solo per comprare delle fantastiche Job Breakers! Job Breakers hai detto? Ah ah ah! Le useremo per rompere le fauci della terra! Yeeey! No! Noi non le romperemo! Le mangeremo! Sì ok ho capito! Beh comunque la mia idea era più carina della vostra! Ciao Ed Boys! Minaccia! Posso sapere quando ritornerà la doppia D!